Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio annunciare l'inizio di un progetto, di un esperimento se vogliamo. E questo progetto è il progetto forum. E fondamentalmente, nel momento in cui vedete questo video, il forum è già disponibile online per tutti. Qual è l'url a qua andare? È questo qui. È forum.esadicimale.it in HTTPS ovviamente, perché ci piace la crittografia. Quindi, fondamentalmente, questo è il forum, questa è la visione che avrete quando entrate per la prima volta, questo qui. E adesso in questo video cercherò di spiegare perché ho deciso di fare un forum, che tecnologia ho utilizzato, qual è il mio obiettivo con questo forum, cos'è che vorrei comunque cercare di ottenere. E quindi tutto cosa del genere. Qui vi lascio, se siete interessati e non volete vedere il video, leggetevi bene il FAQ, che lo leggeremo assieme, e registratevi. Qui potete registrare col sign up, basta email, username, password e name. Vi invierà un email e voi potrete utilizzare appunto quell'email per attivare il vostro account. Qui ci sono varie categorie. La categoria videoita contiene praticamente una discussione per ogni video. Quindi si potranno discutere i video in un forum, quindi con tutte le facilities di un forum. E niente, quindi fondamentalmente ci sta questo. Per esempio, qui in sistema operativi ho fatto questo piccolo post su Android Emulation Setup. Poi magari ci faccio un video, non lo so. Comunque qua ci ho messo un blog, un video, il video di Mattia. E poi delle risposte, quindi potete logare, potete rispondere. Pure qua in Tooling c'è qualcosa, qua in Imax Lisp c'è qualcosa. Anche in programmazione c'è qualcosa. Insomma, ovviamente col passare del tempo questo forum si riempirà. Ripeto, leggetevi bene il FAQ per capire quali sono anche le regole di comportamento del forum che andrò io stesso a verificare. E se siete interessati invece ai video, quindi ai video, qui c'è questa sezione videos fondamentalmente. E qui c'è la lista dei video che ho fatto e qui potete cercare rispetto per esempio, che ne so, a Python. Posso cercare Python e qui mi dà tutti i video in cui menziono Python fondamentalmente. E questa search engine è gestita dal forum in sé e penso, non sono sicuro al 100%, ma penso che utilizza per esempio la descrizione, quindi le parole che metto nella descrizione. Se sono interessato a C, metto C, forse C è una parola troppo piccola, quindi programmazione C magari. E qui metto, che ne so, qua fa sulla filosofia dell'ISPA, probabilmente perché becca programmazione. Quindi programmazione C è una cosa che non riesce proprio a beccare. Strutture dati, insomma non è perfetto ovviamente questa search engine, la dovrei migliorare, però per adesso ci sta e quindi può essere utile. Quindi fondamentalmente questa è l'idea, qui ci sono tutti i video, col passare il tempo aggiornerò la sezione dei video e niente. E poi ripeto, qui nel FAQ ci è descritto anche la struttura con le varie sezioni del forum, quelle di interesse. Che ovviamente cambierò, questo è un esperimento, quindi non aspettatevi niente anche in terreno di disponibilità del servizio. Ci posso dedicare una quantità di risorse molto limitata, però comunque vorrei cercare di fare una cosa interessante. E quindi adesso nel proseguire del video descriverò un po' quali sono state le mie motivazioni che mi hanno portato a iniziare questo esperimento del forum, come è strutturato un esempio di registrazione e un esempio di utilizzo. Quindi spero che il video sia interessante, spero che il forum sia interessante, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al forum se siete interessati e possiamo quindi procedere al contenuto vero e proprio del video. Quindi iniziamo dalla prima domanda, perché un forum? Ora, col passare degli anni fondamentalmente internet ha subito varie evoluzioni e c'è stato un momento in cui i forum erano molto popolari ed erano gli ambienti online in cui si discutevano delle cose, in cui si facevano dei dibattiti, in cui si andavano a raggruppare le community rispetto ovviamente a delle tematiche particolari. Quindi, però, poi che cosa è successo? È successo che sono venuti i social media, i social media mainstream, tipo Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Discord e via dicendo. Quindi queste mega piattaforme e l'avvento di queste mega piattaforme è andato un po' a andare contro all'idea del piccolo forum, no? Il forum di pochi utenti, di una nicchia di utenti interessati solamente ad una cosa. E invece adesso le piattaforme mainstream, appunto, specialmente Telegram e Discord, praticamente vanno ad ostare la maggior parte delle community. Ovvero, se uno ha, per esempio, un canale YouTube o comunque fa dei contenuti online e vuole creare una community con le persone che seguono quei contenuti, tipicamente, questo come si fa? Si fa con queste piattaforme molto mainstream, tipo appunto Telegram, Discord, Patreon, anche per, diciamo, un supporto monetario e via dicendo. E tutte queste piattaforme, dal mio punto di vista, hanno una grande limitazione ed ha a che fare con il controllo. Ovvero, tutte queste piattaforme sono contrate da società terze, società che nel bene o nel male hanno i propri interessi. E qui non voglio, tra virgolette, dire che è sempre negativo avere una società che ha i propri interessi. Detto questo, quando noi vogliamo sviluppare una community online, dobbiamo prendere questo in considerazione. Ovvero, il fatto che, dal punto di vista di questa società, noi utenti siamo i loro consumer, siamo le persone a cui devono vendere un servizio. Ora, il servizio potremmo pagarlo direttamente o indirettamente, ci sono tanti modi per pagare, però, in ogni caso, questa relazione, questo modo di vedere la relazione, appunto, come un consumer e un provider, o comunque uno che ti vende un prodotto, è inevitabile, dal mio punto di vista, quando si utilizzano prodotti molto grandi. Tipo, per esempio, Telegram. Telegram ha tantissimi utenti e sta crescendo tantissimo. E se è chiaro, la piattaforma Telegram in sé, dal punto di vista di funzionalità, non è neanche male. A me piace. Qui, però, c'è proprio un problema di controllo dei contenuti. Ovvero, chi è che ha il controllo sulla community nel momento in cui tu la community la gestisci tramite una piattaforma del genere? E, dal mio punto di vista, forse sarò un po' troppo idealistico in questo senso, non saprei, ditemi voi che ne pensate. Se io devo fare una piattaforma in cui ostare la mia community, in cui sviluppare il mio contenuto, voglio avere il pieno controllo. Ovviamente, qui ci sono tanti if, tanti condizionali, quindi non è sempre così facile. Però, appunto, qual era l'idea? L'idea era andare o in un provider, o in un provider, diciamo, grosso, oppure, qual è la soluzione opposta a un provider? È una soluzione self-hosted della serie. Mi prendo una VPS che pago personalmente e questo forum è ostato con una VPS che pago mensilmente, quindi è un piccolo investimento da parte mia per tentare questo esperimento, e mi faccio tutto da solo. Questo, ovviamente, ha delle limitazioni, ovviamente, perché ho un tempo limitato, appunto, da dedicare a questo progetto, quindi non sono lì a fare engineer reliability, site reliability, disponibilità al 99.999%, no. È semplicemente un VPS, un virtual private server, un server che viene gestito dal cloud. Quindi questa è l'unica cosa che io delego al cloud, quindi a terzi, mi affido a servizi di altri. E però sopra questo server ho una macchina virtuale, fondamentalmente, e sopra ci installo tutto quello che voglio, lo configuro come voglio e, in generale, ho il pieno controllo. Ripeto, comunque assumendo un layer base di VPS che non controllo io. Ma questo, penso che oramai sia un po' inevitabile e sia... Mettersi proprio anche il proprio server diventa un po' un problema sotto molti aspetti, quindi questa cosa io l'accetto, a patto che però al lato applicativo, al lato di sistema operativo, ho il controllo sulle configurazioni, sul software che utilizzo e via dicendo. E quindi, fondamentalmente, questo è un po' risposto al perché il forum? Perché il forum? Perché voglio provare a costruire uno spazio digitale che sia strutturato e che il cui valore sia mantenuto nel tempo. Perché quello che a me non piace di piattaforme come Discord e Telegram è che sono un continuo spam di messaggi in cui manca una struttura e la resilienza al tempo. Ovvero, se io ho una discussione interessante su Telegram, il giorno X, dopo dieci giorni, ma anche dopo due giorni, l'utilità di quella discussione si è già persa, fondamentalmente. Perché io non posso, diciamo, scrollare indietro un botto di testo per ritornare a quella discussione. E quindi non c'è più valore nel tempo. Cioè nel tempo il valore si perde, perché si genera momentaneamente ma poi viene perso. Invece, quello che voglio fare un forum, fondamentalmente, il forum va in una direzione diversa. Il forum va in una direzione che, dal punto di vista di reward istantanea, di gratificazione istantanea, è meno interessante. Perché il forum richiede più energie per utilizzarlo, richiede più sforzo per scrivere un post e via dicendo. Però qual è il vantaggio del forum? Il vantaggio del forum è che il long term ha una struttura maggiore dei contenuti. O comunque quello che cercherò di fare è proprio di mettere tutta una serie di riferimenti utili. Tipo questo post che ho scritto ieri sera, che ho scritto sì mi sembra ieri sera, sull'emulation di Android. Faccio il post che magari linka risorse esterne, tipo al mio blog, che è questo qui che l'ho scritto proprio ieri. Quindi faccio questo Android Emulation Setup, anzi non ieri, l'altro ieri, ma vabbè. Quindi scrivo il blog post e questo dura negli anni. Cioè l'idea è proprio quello di farlo durare negli anni. Qui ci sono vari tag, poi metterò anche varie funzionalità magari di ricerca dei contenuti e via dicendo. Qui un po' di game development, un corso, questo l'ho fatto un mesi fa per fare dei test. Per esempio appunto io posso scrivere, ho trovato questo corso interessante. Lo linko qui, magari ci metto delle cose extra, no? Nel tempo lo continuo a fare update al thread e via dicendo. E quindi il forum, quello che cerco, che sto cercando di catturare del forum, tipo questo è Cybersecurity, ancora non c'è niente. Quello che cerco di catturare del forum è l'abilità del forum di mantenere i contenuti long term e di dare una struttura a questi contenuti. Quindi questa è la cosa più importante che mi interessa e che mi ha portato proprio a fare questo esperimento. Quindi come è strutturato questo forum? È una struttura molto molto semplice. Qui in alto abbiamo un menu veloce per accedere a delle funzionalità comuni, tipo la funzionalità della FAQ. dove ci sono un po' di statistiche e una cosa da leggere per introdursi all'idea del forum, che poi leggeremo assieme. E poi qui c'è questo videos, che questo videos fondamentalmente apre una caratteristica di questo software, che si chiama Documents, che fondamentalmente va ad indicizzare i vari post. E quindi questi sono tutti i post indicizzati. E io fondamentalmente posso vedere tutti questi post indicizzati e posso ricercarli. Qui ovviamente ho deciso di indicizzare solamente i post dei video, perché la mia idea è che ho una categoria specifica, che contiene tutti i video in italiano per adesso, perché il forum è solamente in italiano. Anche se qui ho messo la lingua inglese, ma questa per scelta di design, se vogliamo, per abituarsi un po' all'inglese. Comunque il contenuto in sede post sarà in italiano, fondamentalmente. Quindi qui ci sono tutti i video in italiano, così che se uno vuole fare una discussione interessante su un video, che magari non è d'accordo con me, oppure vuole aggiungere qualcosa a quello che ho detto, oppure ho detto una cosa, diciamo, sbagliata e mi vuole correggere, può scrivere direttamente su questo thread. E questi thread hanno, ripeto, il vantaggio di essere molto più gestibili rispetto ai commenti di YouTube. Perché i commenti di YouTube sono pessimi dal punto di vista dell'utilizzo. Non sono fatti per fare conversazioni e discussioni utili ed interessanti. Quindi questa è la struttura, abbiamo varie categorie e in particolare, lo scrivo anche nella FAQ, ma di queste categorie, quelle più importanti sono aggiornamenti, per essere aggiornate rispetto agli updates del forum, video Ida, che contiene la lista dei miei video, dove per ogni video c'è un thread apposito, in cui si possono fare discussioni rispetto a quel particolare video. Poi c'è una sezione feedback, per dare feedback al forum, quindi qualcuno ha qualche miglioramento, qualche pensiero rispetto a come è strutturato e via dicendo. E poi c'è una sezione community che invece è stata fatta per linkare ad altri creator, ad altre risorse, magari a persone che fanno video, che ci interessano e che vogliamo condividere, lo possiamo scrivere qui. Poi magari qui cambio l'ordine per mettere queste qui in alto, per mettere feedback e community in alto, ma comunque abbiamo queste quattro fondamentalmente, e poi tutte le altre è contenuto tecnico, quindi di cyber security, si parla di sicurezza informatica, sistemi operativi, si parla di tutto quello che è un sistema operativo, quindi sia dal punto di vista teorico che pratico. Per esempio Android è un sistema operativo, e quindi ho messo la guida per fare l'emulation di Android. Si parla di strumenti di tooling, tipo qui c'è un post su Burp Suite, qui c'è uno specifico per Emacs e Lispa, che potrebbe essere considerata una sottocategoria di tooling, ma dato che a me piace molto Emacs, e c'è molto da dire su Emacs, fondamentalmente ho fatto una categoria a parte, proprio perché è specifica per questo posto. Programmazione in generale, quindi qualsiasi linguaggio, C, Python, Lispa, qualsiasi ci interessa, in programmazione, tranne appunto Lispa, nuovamente ha una categoria speciale, perché diciamo deve essere mantenuto, dal mio punto di vista un po' separato. Game development, è un tipo di programmazione molto specifica, quindi qui engine, game engine, progetti di giochi, anche se vogliono condividere e via dicendo, può essere utile. Informatica teorica, qui si può andare anche molto di matematica, devo capire ancora il supporto che questo forum ha per la matematica, però comunque l'idea è che cose un po' più teoriche, algoritmi, strutture dati teoriche, si possono diciamo discutere qui, e poi appunto feedback e community, quindi queste sono le categorie principali del forum, poi uno va semplicemente a cliccare sulla roba, si becca il post, e può fare reply, quindi vabbè qui si deve logare ovviamente per fare reply, tipo qui può vedere il profilo, e niente, quindi fondamentalmente c'è tutto questo. Quindi prima di fare un esempio registrazione e utilizzo, in realtà quello che vorrei fare è vorrei leggere assieme la facca, per dare appunto qualche idea, per commentare assieme quello che intendo, quindi introduzione al progetto forum. Questo forum vuole provare ad essere uno spazio utile e significativo per tutti coloro interessati ad imparare ed approfondire l'informatica nella sua essenza e profondità. Questo ovviamente è un obiettivo difficile, perché l'informatica è una materia complessa, che richiede sforzo ed impegno, tanto sforzo e tanto impegno, e in particolare, e questo è un punto chiave, la maggior parte delle discussioni online su questa materia si limitano ad essere elementari, ovvero la maggior parte delle domande che sono poste sono domande elementari, la maggior parte delle risposte che sono date sono risposte elementari. Non si entra mai in profondità, non si entra mai nell'essenza di questa materia, si va soltanto nelle cose basilari. La maggior parte delle volte ci sono delle eccezioni, ma tendenzialmente sono molto limitate. E in questo forum la mia idea è invece di fare l'opposto, ovvero di entrare in profondità nelle cose, come ho sempre fatto nel canale, ma dare anche a voi la possibilità, ovviamente, di intervenire, di contribuire pure voi a creare un ambiente che vuole esplorare veramente l'essenza e la profondità dell'informatica. Che vuol dire? Vuol dire che questo non vuole essere un posto in cui imparo come accendere il computer. Si assume che il computer lo so accendere. Non voglio neanche essere un posto in cui, se uno è ignorante, allora non può entrare. È aperto a tutti, però il contributo che poi si va a scrivere, quindi il contenuto che si genera, deve essere approfondito e deve rispettare determinati criteri di qualità. Così che, specialmente la persona che è ignorante e che vuole imparare più dell'informatica, può semplicemente leggere i post e informarsi e così facendo la qualità dell'informazione avrà un impatto molto importante, avrà una cosa molto significativa che a questo punto può andare molto oltre YouTube e i video, perché a questo punto si entra anche in tutto il contenuto testuale. Quindi l'idea che mi ha spinto a creare e gestire questo forum è quello di provare a migliorare la nostra relazione con l'informatica come relazionandoci tra esseri umani. Ovviamente questa è una cosa molto difficile da fare su internet e a tale fine ho introdotto delle regole, le regole del forum. Perché? Perché alla fine questo appunto è un tentativo e il risultato di questo tentativo, di questo esperimento, dipenderà anche dal modo in cui voi vi comporterete rispetto all'utilizzo di questo forum. Io ovviamente cercherò comunque di regolamentare, di bannare comportamenti appunto che non rispettano le regole. Quindi cercherò ovviamente di dare degli incentivi a comportarsi bene, ma poi il contenuto in sé lo devo fare io, ma lo dovete anche fare voi. Cioè deve essere una cosa condivisa, questo è l'obiettivo del forum. Quindi quali sono queste regole del forum? Per iniziare, le regole di comportamento del forum non sono fatte per limitare la libertà di espressione, creatività e curiosità delle persone, ma servono invece per salvaguardare la qualità e l'utilità del contenuto del forum. Questa è una cosa che bisogna capire fin da subito. Nel senso, se io prendo un contenuto e, diciamo, lo tolgo, lo elimino dal forum, non voglio limitare la libertà di quella persona, ma voglio, diciamo, proteggere la qualità del forum. Quindi per me l'importante è proteggere la qualità del contenuto e quindi questo significherà quasi sicuramente che alcune domande saranno troppo banali, saranno troppo alimentari e non avranno posto in questo forum e altre sì. Quindi se voi scrivete una domanda e io ve la tolgo perché è troppo alimentare, non è che ce l'ho con voi, è che devo proteggere la missione di questo forum che è appunto salvaguardare la qualità e l'utilità del contenuto perché altrimenti diventa soltanto un modo per spammare cose personali, internet è pieno di questi posti e non è mia intenzione fare un altro di quei posti fondamentalmente. Quindi è bene fin da subito osservare che tali regole non possono essere completamente formalizzate o descritte, ovviamente, ci sarà bisogno del vostro intuito per interpretarle correttamente, questo dopo tutto è un posto per umani e tra l'altro la sezione feedback, ecco nella sezione feedback invece potete scrivere quello che vi pare, senza ovviamente degenerare in insulti personali e via dicendo, la sezione feedback serve proprio per farmi, per discutere anche su ciò che io ritengo significativo e non significativo per il forum, se voi avete un'idea diversa e volete argomentarla potete scrivere in feedback. Quindi in generale questo forum non sarà un luogo in cui insultare le persone per quello che sono, sfruttare l'abilità e l'interesse delle persone per lavori non retribuiti, perché questa cosa è molto italiana e succede molto spesso in cui uno trova un gruppo di persone interessate, si mette in mezzo e prova ad utilizzare l'abilità di queste persone per propri vantaggi, per fare dei lavori che poi non sono ritribuiti, quindi non è mia intenzione fare una cosa del genere, neanche scrivere parole decontestualizzate che non vogliono comunicare nulla, quindi qui c'è proprio un bisogno di capire il contesto, entrare nel contesto e rispondere al contesto. Se io sto facendo un video su Android e uno mi risponde che qualsiasi cosa successa nella vita o nella storia, che ne so, qualsiasi cosa, non mi interessa e quindi decontestualizzate e quindi io quella cosa la toglierò. Perché? Perché non c'entra rispetto all'argomento tecnico che in questo caso sarebbe Android. Non è un posto in cui chiedere aiuto per problemi tecnici personali risolvibili in altri modi, ovviamente qui è della serie, questo non vuole essere un troubleshooting portal per fare supporto a distribuzioni Linux oppure a sistemi Windows, non è questa mia intenzione, la mia intenzione è quella di condividere conoscenza informatica. E infine, molto molto importante, non è il posto in cui chiedere le solite domande da principiante che chiedono tutti, come inizio a programmare, quali sono i linguaggi migliori, che certificazioni devo ottenere e via dicendo, perché questo, nuovamente, non è per essere cattivo, ma è semplicemente perché queste domande sono troppo personali e specifiche al singolo individuo, non hanno una risposta generale e utile per altri e dunque fondamentalmente non aggiungono niente di interessante al tema dei discorsi. Eventualmente si potranno fare discussioni specifiche su queste tematiche, che sono comunque a somma di interessanti, e in quel caso coinvolgere varie persone a dire la loro, diciamo il proprio pensiero, però in generale non ha senso riempire il forum con domande che possono essere scoperte in tantissimi modi diversi. Quindi questo è quello che il forum non vuole essere. E da qui spero che un pochino si sia capito l'intenzione dietro, ovvero non voglio insultare, appunto, non voglio un posto in cui le persone si insultano così a gratis, non voglio un posto in cui si utilizza l'abilità e il contenuto e le persone che stanno dietro al forum per fare cose non retribuite, quindi fondamentalmente per sfruttare, e soprattutto voglio che i contributi siano significativi, altrimenti non ha senso. Quindi che cosa vuole essere invece questo forum? Questo forum vuole provare ad essere un luogo in cui condividere la scoperta di idee tecniche e tecnologie interessanti nel campo informatico e in campi simili, quindi sia nel campo della matematica, della fisica e via dicendo, cioè della serie. Se io sto programmando una simulazione fisica e ho trovato un risultato interessante o carino che voglio condividere, magari ho del codice che ho pubblicato in un articolo e che posso condividere, allora lo posso scrivere nella sezione programmazione come simulazione fisica di un certo evento, di un certo fenomeno e via dicendo. Discutere e dibattere il ruolo della tecnologia nelle nostre vite, quindi anche questa è una cosa molto importante. Su queste magari farò una sezione a parte, perché ancora non c'è, queste sono molto tecniche, però è una cosa che mi sta molto al cuore che è capire appunto come poi la tecnologia si va ad influenzare le nostre esperienze di vita. Quindi anche qui ci possono essere anche delle esperienze personali, tipo stavo comprando i biglietti dell'aereo e questo sito è crashato, perché facciamo questi siti web che non funzionano, con magari un po' più di appunto contributo della serie, un po' più specifico, perché il sito è crashato e via dicendo. Questa è una cosa molto importante, il terzo punto, argomentare le proprie idee in dibattiti basati sul pensiero critico. Questo ovviamente è facile da scrivere, molto difficile da fare, ma fondamentalmente, mentre ho detto qui che non voglio che appunto si insultano le persone per quello che sono, detto questo voglio creare un ambiente che va ad incentivare il pensiero critico e l'argomentazione. Quindi il dibattito deve essere uno strumento fondamentale da utilizzare. Se io posto qualcosa sul forum e sto dicendo una cosa che non è vera, una cosa che dimostrabilmente o comunque tramite un'argomentazione può essere, alcuni possono essere in disaccordo fondamentalmente, sono liberi di scriverlo, a patto che ovviamente non si degenera in attacchi personali. Quindi la critica è ben accetta, criticare le argomentazioni degli altri utenti, nel momento in cui ovviamente c'è qualcosa da criticare, quindi non è che si deve criticare così perché non ci piace quella persona, ma entrando sempre nel merito e questo nel forum significa magari citando frasi scritte da quella persona, ossia io faccio un video dicendomi il timestamp in cui dico una cosa che effettivamente non è vera. Insomma, criticare le argomentazioni senza però degenerare in attacchi personali, condividere idee su progetti personali per ottenere feedback e contributi, quindi magari ho un progetto, lo voglio condividere a delle persone interessate o potenzialmente interessate, ci faccio un post sopra, metto i link e i riferimenti al mio progetto e lo provo a condividere. Anche qui però da stare attenti alla differenza tra condividere un progetto personale e farsi pubblicità per un prodotto. Ecco, questa è una differenza che ancora uno deve capire bene, dipende da caso a caso ovviamente, non si può generalizzare, però ecco, non è neanche un posto per fare marchette così a random, quindi tocca stare attenti in questo senso e condividere le proprie conoscenze e le proprie scoperte ovviamente. E in particolare, questo è il punto più importante di tutti, imparare da persone più esperte. Perché sono molto, molto, diciamo, portato a spingere in alto la qualità della discussione? Perché anche se questo può sembrare come una specie di gatekeeping, che io non voglio che le persone più ignoranti e meno esperte partecipano alla discussione, in realtà non è vero. È tutto l'opposto in realtà. Io voglio spingere la qualità delle argomentazioni e dei contenuti in modo tale che le persone meno esperte, le persone più ignoranti, hanno più facilità nell'imparare. Perché possono leggere, possono prendere spunti, prendere riferimenti, prendere codici e via dicendo, da persone più esperte e questo in realtà aiuta tutti coloro veramente interessati ad imparare. Ora, rispetto appunto a esempi che non rispettano queste regole, adesso non ne ho, perché nessuno ancora utilizza il forum, ma nel corso del tempo quello che andrò a fare è andrò a scrivere sul 3 da seguire, questo regolo del forum, esempi che non hanno rispettato queste regole. La mia idea è che, anche se non posso formalizzare del tutto in modo logico queste regole, perché sarebbe stupito da fare, qui ho messo dei principi, delle linee guida fondamentalmente, e se qualcuno poi non le rispetta nello specifico, nel contesto, un pochino, sempre con le risorse a mia disposizione, vado a scrivere qui su aggiornamenti in questo thread particolare degli esempi della serie. Qualcuno ha scritto questo commento e questa cosa non è giusta, diciamo, non è corretta, non la voglio nel forum, perché? Per queste ragioni. Sempre ovviamente anonimizzando l'utente e via dicendo, perché, rivedo, la mia idea non è quella di attaccare singole persone, ma è quella di argomentare e dibattere idee, tecniche e tecnologie. Quindi la struttura del forum ne ho già parlato. Ora, per quanto riguarda la tecnologia del forum, come detto, questo è stato su un WPS che pago mensilmente 15 euro al mese e fondamentalmente è il deployment di un progetto open source discourse, quindi è il forum che sto utilizzando e discourse, voi lo potete trovare su GitHub e open source. Questo che significa, ovviamente, stile open source, io non posso dare garanzie sulla disponibilità, anche perché è appunto un progetto investito, è un progetto che non pagate nulla per avere questo servizio e non ci sono pubblicità e non vendo i vostri dati e quindi fondamentalmente l'idea è quella di creare un posto significativo utile per tutti e questo ha un costo di 15 euro al mese senza ovviamente problemi di scalare il traffico, sono tutte cose che anche adesso non devo gestire fondamentalmente perché non so quanto traffico ci sarà, non so se poi dovrò prendere qualcosa di più costoso e in quel caso tocca vedere costi benefici, però diciamo questo è un esperimento, vediamo come va e vediamo cosa ottenere. e infatti tra gli obiettivi del forum c'è anche quello implicito se vogliamo di far vedere che è possibile utilizzare soluzioni open source per gestire la propria community senza fare affidamento alle solite piattaforme tipo Telegram, Discord, Twitter o X, Instagram e via dicendo. Quindi come fare i primi passi li vedremo a fine del video però l'idea è vi fate un giro per il forum, leggete ciò che vi interessa, se avete qualcosa di significativo da condividere andate nella sezione create un nuovo thread e via lo condividete con le link riferimenti più riferimenti avete meglio è perché significa che quella cosa effettivamente esiste ha senso la community la considera e via dicendo e in particolare e in particolare se avete qualcosa da condividere fatelo pure ma prima di condividere qualsiasi cosa provate a chiedervi se ciò che volete condividere può potenzialmente essere utile anche per altre persone altrimenti non ha senso postarlo in un forum pubblico e quindi più o meno questa è l'idea ora oltre al forum il progetto forum è un primo tentativo concreto pratico di costruire un qualcosa di diverso dal solito con i miei video su youtube cerco di fare questa cosa ma appunto i miei video su youtube sono limitati dal fatto che io Leonardo ho una quantità di risorse molto limitate in realtà perché devo pure lavorare e fare altro e quindi fare video ogni volta diciamo c'è un limite a quanto posso produrre facendo solo video però quella è l'idea l'idea è quella di far vedere che è possibile condividere la propria conoscenza utilizzando gli strumenti che ci offre internet e la comunità community dietro internet senza passare necessariamente per grandi corporazioni o grandi istituzioni ciò che serve non è tanto andare all'università non è tanto andare al lavoro non è tanto iscriversi a qualsiasi social media ciò che serve ciò che è sempre servito e ciò che sempre servirà sono menti curiosi e appassionati e questo vuole proprio essere uno spazio per lo sviluppo di tali menti non mi importa se siete giovani adulti o anziani non mi importa se siete italiani o stranieri se siete uomini e donne non importa quale sia la vostra sessualità l'unica cosa che a me interessa sono le vostre parole perché in questo forum si comunica tramite dei simboli simboli discreti presi dalla lingua italiana quindi mi importa che parole utilizzate e quali significati voi date alle vostre parole quindi state attenti alle parole che utilizzate e sceglietele con cura e questo forum potrebbe essere una cosa interessante dopodiché se siete interessati al progetto più generale qui ho vari link il link al progetto esadecimale canale italiano canale inglese e il blog tecnico in cui ogni tanto carico qualcosa e quindi questa era un po' l'introduzione all'idea del forum se avete del feedback scrivetelo pure direttamente qui diciamo magari faccio un primo thread sul feedback poi lo farò prima di annunciare il video comunque ci sarà qui magari su pensieri generali del forum e poi ognuno se vuole avere dei feedback specifici può andare lì a crearsi il proprio thread sulla categoria feedback fondamentalmente quindi prima di terminare il video voglio far vedere come registrarsi al forum e come utilizzarlo per dare un po' questo boost questo diciamo per finire questo tutorial e introdurre a come funziona il forum quindi come si fa a registrarsi qui c'è un bottone login e qui fa sign up molto semplice e quindi dobbiamo mettere ovviamente le informazioni che sono email username password e name qui metterò un'email che utilizzo fondamentalmente per youtube ed è leo95.youtube.gmail.com qui metto l'username metterò test qui metto la password metto una password ora qui la password dovete generarvela con un generatore sicuro ma per questo test io metterò password1 punto esclamativo questa password non la utilizzate è estremamente insicura lo faccio soltanto per il video e qui il name metterò test ripeto per generare la password cercatevi un password manager scaricatevelo generate la password in modo sicuro e salvatevela nel password manager e mettetela qui faccio sign up e fondamentalmente lui mi ha inviato un'email ci mette un po' di minuti ad inviare l'email quindi aspettate un po' di minuti se non arriva fate resend activation email quindi questo più o meno è l'idea ok non me la sta inviando quindi potrò fare resend activation email quindi me l'ha rinviata di nuovo e aspetto ok adesso dopo che ho fatto resend activation email fondamentalmente mi ha inviato questo link che lo posso cliccare per attivare il mio account quindi lo cliccherò direttamente nella tab del forum che è un tab in incognito faccio paste e mi fa clicchier to activate your account ok mi ha attivato l'account faccio continuo sulle stradecimale e adesso sono dentro quindi sono dentro fondamentalmente quindi posso per esempio discutere qui android emulation setup qui e posso magari fare reply tipo questa cosa in qualche modo molto interessante ed invece per ios qui ovviamente ti dà delle cose come siamo messi in termine di emulazione qui non può contribuire può fare domande può magari mettere dei link se conosce altri modi di fare emulazioni di android e via dicendo fa reply ho inviato la reply posso mettere like per esempio al post ci sono vari modi di interazione con discord non sono sicuro se uno può già far partire un topic penso di sì non mi piace il colore della categoria tooling categoria tooling quindi qua può scrivere i post perché marrone non è un bel colore una cosa del genere può scrivere qualsiasi cosa faccio create topic e qui ho creato il topic fondamentalmente un admin poi ovviamente può fare magari se ho creato un topic mettendo cose che non vanno bene si possono prendere delle precauzioni si può eliminare il post e via dicendo quindi ovviamente ci sarà controllo rispetto a quello che scrivete quindi state attenti in questo senso e niente quindi da questo punto di vista uno può fare questa roba e questo è quanto questo va a chiudere il video spero che il forum possa essere uno spazio interessante ma ovviamente questo dipende dal modo in cui voi lo utilizzerete quindi da questo punto di vista la responsabilità è mutua adesso è reciproca non è solo io che faccio video ma anche voi che contribuite sul forum se volete contribuire quello che vi prego di fare è che se scrivete qualcosa mettete dei riferimenti mettete comunque un qualcosa di sostanza prendete spunto dai pochi post che ho messo tipo qui vado a linkare un corso di programmazione con playlist al corso e poi diciamo diviso per i vari video fondamentalmente e poi ci ho fatto un video sopra prendendo spunto da questo corso e quindi ho detto guarda sul canale ho cariato una roba che fa prendere spunto da qui quindi sempre oppure qui parlo di bird suite mi chiedo ok bird tipo qui ci ho messo una messi dovrebbe essere messi quindi ho fatto un errore poi lo sistemerò e quindi qui nuovamente vado a linkare un blog post che ho scritto e via dicendo quindi mi raccomando fate le cose con del significato altrimenti è inutile e lo devo rimuovere e non mi piace rimuovere le cose ma sarò costretto da farlo nel momento in cui non si vanno a rispettare queste fondamentalmente queste regole queste guidelines questa direzione del forum il forum è aperto a tutti non importa quanto sapete dell'informatica ma se siete principianti se non sapete piuttosto che scrivere potete leggere potete leggere potete prendere spunto eventualmente potrei fare una sezione di domande di domande che diciamo che potete fare ma per favore non fate le solide domande perché quelle non aiutano a nessuno pensate anche agli altri utenti pensate anche alle altre persone che dovranno leggere appunto la vostra domanda e che dovranno leggere il vostro contenuto quindi questo è quanto per questo video spero che il progetto possa essere interessante e al prossimo video